Sono stata per un anno la folletto amica di un uomo, che però mi teneva nascosta. Quando però lui ha saputo che mi sono fidanzata con un altro ragazzo, mi ha chiamato e mi ha fatto gli auguri per la mia nuova storia. Che cosa vuol dire? È geloso o arrabbiato? Benvenuti nella mia nuova rubrica, un consiglio da Rossella. A cominciamo. Voi lo sapete, no? Che cos'è la folletto? Non è che voglio fare pubblicità, però capitolo da solo, perché certi termini non ce la faccio proprio a ridicere. Allora, questo ragazzo sta insieme a te per un anno e mezzo, va, viene, ti blocca, ti sblocca, sapendo che tu hai avuto un passato difficile, che cosa fa? Con delle scuse così banali, tramite lavoro, ti rivede. Sa che ti sei fidanzata, ti cerca, ti chiede delle foto, ti fa vedere che lui ha fatto palestra e quindi ha un bel fisico, e ti fa addirittura gli auguri per la tua nuova storia. Tu vuoi sapere che cosa ne vedi. Allora, innanzitutto, io vorrei sapere tu, in primis, perché ti fai questa domanda. Cioè, a te di questo che te ne importa? Tu, ma ti sei fidanzata a parte, non è per cattiveria, però, io penso che quando una persona, questa è nella mia indole, no? Quando una persona si fidanza con un'altra persona, o si frequenta seriamente, a meno che non siete folletto amici, e quindi la relazione è libero, è free time, ognuno varo, coglie, coglie, tutti insieme felici e contenti, però nel momento in cui decidi di stare seriamente con una persona, tutto quello che appartiene al passato, ma pure al presente, no? Sono da lì. Quindi, se Kiss ti chiama, tu o non lo rispondi proprio, oppure gli dici, guarda, non mi dire niente, adesso sto con una persona, non mi contattare più. Invece tu lo chiami, ti fai vedere, i messaggi, è che questo non è corretto, manco per la persona che sta avvicinando a te. Ma tu mi hai detto che lui vuole crearti dipendenza affettiva, ma che lui già te l'ha creata, dipendenza affettiva. Questo perché ti fai aguri? Perché quello è un manipolatore. Allora, questo, da te, vuole solo una cosa. E me l'hai detto pure tu, che lui è innamorato del tuo lato B, non del tuo lato B del cuore, proprio del tuo lato B a rete, capito? Quindi è una cosa fisica. Non è che ha detto, di te mi mancano questo, di te mi manca la tua voce, mi mancano le tue carezze. No, questo è uno che pensa solo fisica e all'estetica. E quindi tu per lui sei un bel pezzo di manzina, la macelleria, ok? Che cosa vuoi sperare dopo questo, da questa persona? Allora, questo, più di questo non ti può dare. Quello ti ha detto questa cosa? No, perché è geloso. Che io non se ne importo proprio, perché se lui se ne importava qualcosa, faceva qualcos'altro. Ti dicevo, scusami, ho capito che sei la donna della mia vita, lascia quest'uomo, torni insieme a me e vediamoci. Perché dove c'è una videochiamata? Hai capito? Questo te l'ha detto, semplicemente, per farti capire ancora una volta, che lui non ci dà neppote. Hai capito? Punto. Cioè, e questo, tu sei ancora qua a chiederti, perché lui mi ha detto questo. Ma che te ne importo quello che lui ha detto? Lasciala andare via, chissà, è una persona che a te non ti fa bene. È una persona che nella tua vita ti porta solo cose brutte. Perché cosa? Perché è bellissimo? Perché è palestrato? Perché a cose vostre, forse lui è bravo? Eh, ma poi? Allora, se tu vuoi cercare questo, se a te basta questo, e non credo, perché tu mi hai detto che hai avuto già un passato difficile, e allora sappi che tu ti stai buttando la coppa in aereo senza paracaduto. Ok? Allora, tu questa persona la devi allontanare, e non ti devi manca importare quello che pensa o non pensa, non è atto a dimostrarti il suo amore, ma solamente il suo controllo. Cioè, che se metta te qua, azzecca te come uno francobolo, e guarda te allo specchio, e la mattina alla sera scrive, vuole solo controllarmi, vuole solo sapere che comunque vada, anche se io sono fidanzata, lui mi può chiamare quando vuole. Ma non esiste proprio. Ma che stai dicendo? Vedi come sarebbe bello, no? Che lui viene a sapere che tu sei fidanzata, ti chiama, e tu gli dici, guarda, scusami, mi fa piacere che mi hai richiamato, che hai pensato a me, ma in questo momento non credo sia giusto, nei confronti della persona che sto frequentando, continuare questo nostro rapporto. se che lui diceva, ma non siamo solo amici, tu dici, eh, eravamo solo amici, vi letto però, ma adesso ho bisogno di una persona che mi ama, se è stata un'esperienza della mia vita. Ah, e così, ho messo a posto, e tu fai in crisi, tu hai iss, no che iss ancora, ma dopo tutto che iss ancora, tu ti fai le domande su di lui. Oh, ma lo vogliamo lasciare andare a questo bel mobile? Vogliamo fargli fare questo bel trasloco verso un posto molto molto lontano? Eh? Ega, non fare agli altri quello che non vuoi per te, tu hai sofferto, e non è giusto per questa persona, pure che stai frequentando, a un mese, a un giorno, a una semana, se questa persona per te prova dei sentimenti, ed è sincero, non lo sfottere, piuttosto lascialo, non lo frequentare, ma non starci insieme solo per fare rispetto a questo, o solo perché ti senti sola, o solo perché ti accontenti, capisci? Perché se tu stai avendo ancora il pensiero con questo, vuol dire che tu non sei pronta ancora, e non farai agli altri quello che non vuoi per te. Quindi da una parte ti dico, questo ti vuole solo controllare, vuole sapere che comunque vada, anche se tu ti sfidanzi, lui con te fa quello che vuoi, ti chiamo, ti videochiamo, ti manda a chiamare, fa quello che vuoi, e alla fine ti dice pure buona fortuna, lo dice, tu sei fidanzata, ma io faccio sempre quello che vuoi, hai capito qual è il suo scopo, e non è gelosico, perché se sei geloso non riesco manca a parlare con uno, con questa cunata femmina, punto prima, ma questo vuol dire che hai proprio qualcosa, punto secondo, abbi rispetto per te stessa, scava bene dentro di te quello che vuoi e quello che non vuoi, terza persona, abbi rispetto alla persona con cui stai insieme, perché non è giusto che un uomo, un ragazzo, o una donna, quel che sia, deve pagare le tue insicurezze del passato, quindi o affronti il futuro, e chiudi col passato, oppure chiudi con il futuro, ok, ti faccio un in bocca al lube, buona vita, no, e chiudi,